L'Aquila festeggia la riduzione della penalizzazione in classifica a seguito della sentenza della Corte d'Appello sul caso calcio scommesse. Nella giornata di lunedì i Rossoblu hanno visto ridurre la penalità da 13 a 6 punti, passando dal terzo ultimo posto al decimo, uscendo così di fatto dalla zona retrocessione. Decisivo il ricorso presentato dai legali del club aquilano, Flavia Tortorella e Carlo Celani, che hanno focalizzato l'attenzione sull'interruzione del rapporto di lavoro tra l'ex responsabile dell'area tecnica Ercole di Nicola e l'Aquila, avvenuta il 21 febbraio 2015. I giudici della Corte hanno accolto la tesi dei legali Rossoblu. Infatti, i sette punti di riduzione riguardano proprio le tre partite successive a quella data, l'Aquila-Tuttuoio, l'Aquila-Sant'Arcangelo e Barletta-Catanzaro. Intanto, la truppa di Carlo Perrone continua la marcia di avvicinamento al match di domenica-Sant'Arcangelo. Sfida delicata, soprattutto dal punto di vista mentale, dopo il sollievo appunto per la riduzione della penalizzazione. Il rischio è di un calo di tensione che il direttore sportivo Alessandro Battisti spera di evitare. Non c'è questo rischio perché comunque sappiamo che il cammino è ancora lungo, è difficile. Abbiamo tutti gli sconti diretti più importanti fuori, a cominciare da quello di domenica e per noi è un crocevia fondamentale. Quindi abbiamo parlato con i ragazzi che questa è una settimana da curare al mille per mille perché sarà una partita molto molto importante. Sul fronte formazione l'Aquila dovrà fare a meno ancora una volta di Emanuele Pesoli alle prese con un problema al flessore. È emergenza in difesa dal momento che mancherà anche Giordano Maccarrone, causa squalifica. Ecco che quindi si candida all'esordio in maglia aquilana l'ex crotone Luca Bruno, che sarà in ballottaggio con Sanni per la maglia da titolare nel trio completato da Cosentini e Piva.